Cimiteri aperti a Pescara dalle 8 alle 17 in questo lungo fine settimana che celebra i santi e commemora i morti. A Colle Madone, San Silvestro, la società ambiente SPA che si occupa della gestione dei cimiteri cittadini, ha predisposto servizi aggiuntivi per agevolare le visiti ai cari scomparsi, pulizia supplementare anche nelle aree circostanti, implementazione della sanificazione dei bagni fino a 10 volte al giorno, taglio dell'erba e rifacimento dei campi con l'aggiunta di brecciolina mancante nei viali divenuti poco praticabili e dunque rimessi a posto. Come da prassi, gli ingressi principali saranno presidiati dai volontari della protezione civile, che quest'anno gestiranno anche il servizio gratuito di carrozzine messe a disposizione di quanti presentino problemi di diambulazione, poi prontamente sanificate come vuole il protocollo per l'emergenza Covid, che per la frequentazione dei cimiteri prevede le stesse norme dei luoghi all'aperto. Restano immancabili i presidi di disinfezione delle mani, soprattutto per quanti volessero usufruire del servizio di ricerca digitale offerto dai totem presenti all'interno dei due cimiteri, quest'anno anche a San Silvestro, che consente di ottenere le coordinate precise del luogo di sepoltura di un defunto attraverso l'inserimento di nome e cognome del caro a cui si intenda far visita. Disposte inoltre modifiche alla circolazione nelle strade antistanti e adiacenti cemiteri di Colle Madonna e San Silvestro,